Grazie a Vem per avermi invitato a questo evento e darmi l'opportunità di parlare di questo argomento. Le premesse che sono state fatte sono significative. Quello che vorrei cercare di fare qui insieme a voi è indagare alcune delle premesse nascoste che in questo lavoro si portano con sé e che sono il motore dell'innovazione. Capiamo veramente che cosa c'è da cambiare se abbiamo capito che cosa stiamo facendo. Abbiamo parlato di intelligenza. Se mi si chiede qual è il game changer è l'intelligenza oggi. Ma un tipo di intelligenza naturalmente che per noi è rilevante da un punto di vista operativo. E' quella intelligenza di cui abbiamo parlato ora, cioè l'intelligenza considerata capace di coadjuvare la conoscenza e soprattutto le decisioni. Dovremmo tornare su questo tema. Cioè, che cos'è l'intelligenza? E qual è il tipo di intelligenza che a noi interessa oggi? Naturalmente la filosofia si è interrogata da sempre su cosa voglia dire comprendere il mondo. Questo intelligere vuol dire esattamente questo. Per entrare nel mondo, appropriarsi delle strutture fondamentali che lo costituiscono e in questo modo poterlo abitare in maniera più efficace. Più efficace per la sua sopravvivenza, ma come ho detto poco fa, più efficace anche perché abbia senso semplicemente abitarlo. Starci bene. Viverlo bene. Essere felici forse addirittura. O perlomeno cercare di esserlo. Che cos'è l'intelligenza? Ci sono due fonti, solo due fonti per l'intelligenza. La logica e l'esperienza. Noi possiamo affidarci o tutto all'una o tutto all'altra. Oppure cercare di creare un mix. Se ci affidiamo tutto alla logica, uno dei possibili esiti è questo. Questo è già stato citato, è già stata citata la saga degli Avengers. La fantascienza spesso è un esperimento mentale. L'esperimento mentale è una delle tecniche filosofiche più antiche. Il mito della caverna in Platone è un esperimento mentale. Ed è quasi un esperimento di fantascienza. È una sorta di prefigurazione del cinema. E appunto di cinema stiamo parlando. Nella saga degli Avengers questo è Ultron, che è una intelligenza artificiale creata da Tony Stark per scopi di difesa globale. La cosa che accade è che tiene in piedi il film che rende la questione molto drammatica e che la programmazione dice a Ultron difendi l'umanità da qualunque pericolo se gli si palesi davanti. E fai qualunque cosa perché questo pericolo non diventi reale e venga distrutto. Ebbene Ultron fa una semplicissima deduzione logica. vale a dire il più grande pericolo per l'umanità è l'umanità stessa. Dunque, per salvare l'umanità io devo distruggerla. Questo semplice sillogismo che apparentemente a noi suona come contraddittorio per la logica non lo è. è una contraddizione pragmatica. Cioè, tu non puoi uccidere te stesso. È la contraddizione pragmatica che c'è anche per alcuni filosofi nel suicidio. Non togliersi la vita come atto di libertà. E qui è una macchina che lo fa. E non vede contraddizioni in un mondo senza esseri umani. Dunque, si muove in questa direzione. Dunque, è evidente che un algoritmo che funzionasse in questo modo sarebbe decisamente problematico. Quell'algoritmo gliel'abbiamo dato noi. E qui sta il punto. Se la filosofia ha cercato di capire qualcosa degli algoritmi, della tecnica in generale, ha compreso che l'essenza della tecnica non è nulla di tecnico. Questa è detta in modo roborante, detta da un filosofo paludato, tedesco per giunta, e per fortuna defunto, nel senso che aveva simpatia nazista e la cosa non ci sta simpatica. Quella è Martin Heidegger. Qualcuno che ci sta più simpatica e che già spiato citato è Fei-Fei Li. Non ho bisogno di dire chi è. Stanford University, intelligenza artificiale, soprattutto ImageNet. Grandissime quantità di immagini classificate, organizzate, ordinate per fornire dati di base all'elaborazione, attraverso algoritmi, di comprensione e di procedura di decisione. Fei-Fei Li dice una cosa molto molto simile a quella di Martin Heidegger. Non so se abbia letto Martin Heidegger, ma non è importante. L'intelligenza è ovunque e la filosofia è ovunque, come ho detto. Fei-Fei Li è una filosofa tanto quanto lo è Martin Heidegger. There is nothing artificial about artificial intelligence. Why? Per questa ragione. perché l'intelligenza artificiale è ispirata dalle persone, creata dalle persone e soprattutto ha impatto sulle persone. Questo in che senso? Quello che ho potuto leggere di Fei-Fei Li mi ha insegnato questo. La precompressione che il pubblico, anche questa è una cosa di cui tenere conto e ci torneremo fra poco, il pubblico ha un'idea dell'intelligenza artificiale molto idiosignante, non idiosincratica, ma molto schematica, molto basata su un pregiudizio. Pensano, la maggior parte del pubblico pensa all'intelligenza artificiale più o meno come noi pensiamo altro. C'è un strano marchigegno che ha un modo di funzionare perfettamente meccanico e perfettamente logico, ma per questo molto disumano. Le cose non stanno esattamente così, per fortuna, ma insomma, anche questo non è detto che ci risolva il problema. Naturalmente questa è una provocazione. L'intelligenza artificiale non è un algoritmo. Chiaro che è un algoritmo, è un insieme di algoritmi, ma non è il modello della decisione perfetta. Torneremo su questo fra un attimo perché, di nuovo, l'intelligenza artificiale che ci interessa è quella che ci aiuta a decidere e in qualche caso sempre di più decide al posto nostro o ci indica una direzione di decisione molto fortemente in modo tale che noi difficilmente possiamo decidere in modo diverso. Ma il punto è non è basata quella che abbiamo a disposizione su un modello ideale della decisione giusta, del bene, del male, semplicemente perché questo modello nessuno ce l'ha. Si basa invece piuttosto sull'elaborazione molto sofisticata con qualche piccola azzardata correzione di dati su ciò che noi facciamo realmente. Immagini, misurazioni, stili di comportamento, pratiche abituali, esempi umani. Questo è quello che Feifei lì dice, non c'è niente di artificiale, è tutto basato sugli umani. Cioè, l'intelligenza artificiale guarda, elabora, statisticamente riconosce il comportamento per lo più più efficace o più frequentemente adottato, che abbia dato certi risultati, ma appunto poi deduce qual è il comportamento appropriato in quella circostanza. Alcuni esempi di alcuni risultati. Ci sono grandi successi, ma ci sono anche esempi un po' paradossali, risultati un po' paradossali. Amazon Recreting, software che utilizzava un certo tipo di intelligenza artificiale per cominciare a selezionare, per selezionare una prima selezione dei curricula dei candidati ad un posto di lavoro. Prima selezione, la selezione ultima la fanno le persone, certo, ma intanto la macchina, il lavoratore escludeva tutti i curricula con la parola donna. Perché? Perché la prassi aziendale privilegiava i curricula maschili e conseguentemente la macchina deduce evidentemente i profili maschili sono migliori. Questo era un primo punto. Google Images, questo è un caso noto, poiché in molti casi le immagini di persone di colore venivano identificate dagli utenti come gorilla, per qualche ragione di tipo non esattamente raccomandabile, allora Google Images identificava alcune immagini di un certo tipo di immagini di persone di colore come gorilla e con ciò li scartava dal consesso umano, il che non è esattamente il risultato che noi vogliamo ottenere. Un terzo esempio è anche più divertente, cioè Microsoft ha lanciato un chatbot da un certo punto, lo ha lanciato nella rete e l'ha fatto funzionare in alcuni social network e il chatbot ha imparato a creare dentro i social network una quantità di insulti di vario tipo anche razzisti ma fondamentalmente insulti apprendendo dagli utenti. Allora questo è il problema è di questa intelligenza che abbiamo bisogno e chi ha generato questa intelligenza? L'abbiamo generata noi cioè siamo stati noi e qui io voglio condurre il ragionamento il nostro ragionamento filosofico comune oggi abbiamo generato noi questa intelligenza non nel senso che abbiamo generato un algoritmo che produce perché l'abbiamo deciso noi insulti razzisti ma perché noi ci siamo comportati in quel modo perché noi abbiamo per lo più generato frasi razziste se deselezionate il curriculum di donne e così via cioè c'è qualcosa che dobbiamo pensare ed è appunto quando si tratta di prendere delle decisioni dobbiamo pensare in modo pratico e sviluppare l'intelligenza non semplicemente descrittiva che replica il modello visto ma un'intelligenza che valuta che giudica del bene e del male e questo è un grosso problema perché non riusciamo a mettere il bene e il male in un algoritmo per ora l'espacità di scegliere bene significa sviluppare quella che gli antichi chiamavano fronesis la traduzione tipica è saggezza e questa certamente ha delle connotate razionali e quindi logici si basa sulle esperienze e quindi impara dagli errori e anche da ciò che vede ma compie un lavoro forse un po' più complesso e soprattutto coinvolge qualcosa di cui fino adesso non abbiamo ancora parlato che è la libertà la libertà è un grosso problema anzi la libertà è il problema David Hume diceva che il più controverso dei problemi metafisici è il problema della libertà e non se ne uscirà mai forse è uno dei più famosi filosofi americani contemporanei Robert Nozick diceva che il problema del libero arbitrio è il più frustrante e insuperabile problema della filosofia dunque non chiedetemi che cos'è la libertà quello che un po' la filosofia ci aiuta a pensare in questo senso è che cosa non è e la libertà quasi certamente non è due cose per lo meno per come noi pensiamo la libertà istintivamente la libertà non è il caso cioè non è l'accadimento del quale non siamo autori qualcosa che si produce senza che noi ne siamo deliberatamente la fonte è appunto l'evento non l'azione non è la necessità non è la cosa che accade perché doveva accadere perché è necessario che accada non è ciò che siamo costretti a fare sotto l'indirizzo delle necessità cioè è una realtà a mezzo tra l'accadimento privo di una ragione e l'accadimento che ha una ragione insuperabile incontrastabile è quello che potremmo chiamare la libertà la scelta libera l'intelligenza pratica quella capacità di agire in base a buone ragioni proviamo a spacchettarla c'è un grande dibattito su questo ci sono molte cose che servono che bisogna fare per agire con buone ragioni bisogna interpretare interpretare la situazione comprendere dove ci si trova elaborare una comprensione acuta e sensibile delle variabili delle nuance che ci sono in quella situazione che per lo più coinvolgono persone le macchine stanno imparando a fare questo io non sto dicendo che le macchine non sappiano fare questo io sto dicendo che cos'è quell'intelligenza pratica di cui abbiamo bisogno vedremo se e come le macchine sapranno fare questo lo vedremo appunto nel tempo ma dobbiamo capire bene che cosa è in gioco e quello che è in gioco è interpretare e soppesare vale a dire valutare dire questo è bene questo è bene questo è male e affidare questo a un mero algoritmo logico o alla mera riduzione dell'esperienza sarebbe curioso bisogna lavorare come fanno gli umani mescolando un po' queste due cose c'è la logica se faccio una cosa contraddittoria è palesemente sbagliata ma la contraddizione la sento come umano non la sento come mera logica di concetti e devo usare l'esperienza perché imparo dei miei errori ma appunto quanti errori posso fare prima di aver combinato un disastro e dove mi devo fermare e chi mi dice che ho fatto un errore me lo dicono i fatti ma me lo devono dire anche le persone perché tante volte dei fatti io ne faccio a meno devo deliberare cioè devo prendere le mie ragioni valutarle dargli un peso soppesarle e poi alla fine prendere una decisione devo sbagliare devo agire e poi devo convincere cioè devo imparare che quando io penso di avere fatto la cosa giusta ho la pretesa che gli altri mi diano ragione ho la pretesa di avere le parole giuste per dire che questa era la cosa da fare e questo gioco la persuasione per la quale si usa spesso un'antica tradizione chiamata retorica che è denigrata ma è la cosa più importante che ci sia nel mondo umano cioè la capacità di argomentare bene la retorica è questo l'arte dei buoni discorsi mi capita spesso di fare corsi di retorica in azienda oggi per questa ragione non per abilitare la gente a fare buoni speech non è lo speech writing or public speaking la retorica è un'altra cosa è l'arte di argomentare bene con le parole giuste al momento giusto nel posto giusto anche suscitando le emozioni giuste ma questa è una cosa che si impara esercitando e tutte queste attività sono attività che bisogna praticare da umani per farle bene bisogna esercitare tutte queste nostre capacità sono capacità fisiche relazionali legate al contesto all'ambiente sono capacità culturali nel senso più ampio del termine cioè non dell'erudizione ma appunto della nostra abilità di dare senso alle cose allora torniamo al nostro dilemma come potremmo fare in modo che un'intelligenza artificiale che altro non è che una rapidissima velocissima capacità di combinare milioni di informazioni con piccoli diciamo piccoli elementi che sono in grado di correggere alcune cose ma che hanno bisogno di buoni esempi per funzionare bene non abbiamo scelta dobbiamo imparare a essere liberi dobbiamo imparare a essere noi umani che le macchine guardano l'esempio da cui le macchine prendono il modello dell'intelligenza se guardiamo la storia umana non siamo messi molto bene né quella passata né quella contemporanea ma per questo l'intelligenza è il game changer se non diventiamo intelligenti nel senso pratico nel senso dell'intelligenza e della libertà noi moriremo lo dice lo dice la scienza ecologica lo dice anche certe previsioni di sviluppo economico lo dicono certe previsioni storiche o futuristiche dal momento che saremo sempre più capaci di capacità distruttiva ma anche di capacità creativa e dal momento che saremo sempre più esposti a una rapidità di presa di decisione basata su quantità di informazioni sempre maggiori le quali però in gran parte derivano dall'esempio di quello che noi facciamo se non cambiamo il nostro comportamento quello che accadrà sarà all'incirca altron all'incirca la conclusione che è meglio che l'omani si è soppressa sembra una conclusione drammatica in realtà se devo dire la verità io oggi ma non da oggi coltivo una passione per l'utopia e oggi ho visto molte ragioni di speranza anche quel dialogo tra la giovane imprenditrice e l'imprenditore di successo mostrava che oggi come ieri c'è una capacità di intuire ciò che è veramente innovativo e ciò che porta alle persone qualcosa di importante e bisogna crederci uno dei motori che ci consentirà di essere migliori e quindi essere un esempio migliore che le macchine possano leggere per imparare a ragionare anch'esse meglio uno dei motivi per cui dobbiamo possiamo sperare che le cose possano forse non andare tragicamente è che dobbiamo crederci dobbiamo credere alle utopie dobbiamo pensare utopicamente tra l'altro questo è quello che ha fatto la modernità la modernità ha cominciato a correre quando ha cominciato a pensare in modo utopico ma credendo che fosse possibile la città ideale dimenticando i teoremi di sventura della fine del medioevo e noi siamo alla fine di un periodo che più o meno ragionava così il post moderno è stata quella lunga epoca tra gli anni 80 e i primi anni 2000 in cui la filosofia e la cultura ci ha detto la modernità è finita l'uomo è finito l'occidente tramonta la ragione non c'è più l'etica è finita dimentichiamo ogni sogno di bene e giustizia cancelliamolo perché o è illusorio o peggio nasconde una violenza a me sembra che queste tasse a quella in cui invece le cose si ribaltano una vera rivoluzione questo termine è già stato utilizzato siamo all'inizio forse di una nuova modernità qualcosa che ci fa ripartire in modo completamente diverso dopo aver avuto molte delusioni ma con quel drive che anche Tommaso Moro aveva quando scriveva nel 1516 Utopia vale a dire bisogna credere che in un posto da qualche parte in un'isola che magari abbiamo scoperto per caso e non l'abbiamo veramente scoperta perché in realtà non ci sappiamo più tornare ma lì le cose funzionano le persone sono felici stanno bene insieme la società è giusta ognuno ha il riconoscimento che deve avere ecco allora se c'è una cosa che noi dobbiamo fare perché l'intelligenza anche quella artificiale non sia una minaccia ma sia quello che è cioè la grande opportunità che abbiamo in quanto esseri umani e accanto a noi le macchine con noi le macchine che sono nostri compagni di strada e non minacce per l'appunto sono ausili del nostro modo di vivere e di essere ecco se c'è qualcosa che dobbiamo fare è pensare in maniera rigorosa in maniera accurata in maniera anche autocritica ma essenzialmente in maniera utopica grazie 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 grazie